Signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Allora, torniamo seri, torniamo a parlare di libri nella fattispecie di questo libro scritto da Odie Murphy intitolato All'inferno e ritorno. Quello che vedete in copertina è proprio Odie Murphy, l'autore, il più decorato soldato americano della seconda guerra mondiale, nel film perché dopo la guerra Odie Murphy divenne un buon attore e questo è il suo film autobiografico, interpreta se stesso in questo film. Insomma un libro che racconta le vicende, la storia, la guerra vissuta dal più decorato soldato americano della seconda guerra mondiale. L'introduzione ci introduce a questo, insomma ci parla di questo libro con le parole di Murphy che ti dice, è sempre così, la paura può andarsene nel calore della battaglia, certe volte scompare del tutto in una furia cieca, sanguigna, quando vedi un amico cadere al tuo fianco e appena tutto è finito sei così stanco che resta in te soltanto l'indifferenza, ma finché cammini verso le linee nemiche in attesa del combattimento è inutile negarlo, la paura è sempre lì, vicino a te. Certo, l'esperienza insegna qualche cosa, ben presto ti accorgi che la faccenda non è così nera come la dipingono, qualcuno riesce sempre a cavarsela, già, ma di solito c'è anche qualcuno che ci resta. È inutile a parlarne con gli altri, è un affare strettamente personale, ma una domanda continua a torturarmi il cervello. Questa volta sarò io quello che ci resta? Ormai la paura la conosco bene, dapprima ti prende all'intestino, come la mano che si infila nella carcassa di una gallina per toglierne le interiora. Adesso ho l'impressione che dita gelate stiano frugando dentro di me, mi afferrino le budella e vi facciano dei noti. La storia di un soldato di fanteria durante la seconda guerra mondiale, dallo sbarco in Sicilia all'invasione della Germania nazista, la dura esperienza di un ragazzo che credeva che la guerra fosse garrire di bandiere e suono di fanfare nella limpida luce del mattino. Mentre in realtà la guerra si rivela essere sangue, merda e tante brutte cose. La biografia di O.D. Murphy, il più decorato soldato americano della seconda guerra mondiale. Un uomo coraggioso, un uomo che ha gettato veramente tutto se stesso nella guerra per servire il proprio paese, per servire quello in cui credeva. O.D. Murphy è stato indubbiamente quello che si può definire un eroe. C'è un uomo come tanti, un ragazzo come tanti, poco più che ventenne, che si arruola volontario per la seconda guerra mondiale, si ritrova in guerra in Sicilia prima e nel sud della Francia poi per finire la guerra in Germania, un uomo che combatte, un uomo che uccide, un uomo che vede morire i suoi amici, un uomo che tocca con mano la dura, terribile, crudele e atroce realtà della guerra. Tu ragazzino ti immaginavi la guerra come, ripeto, bandiere al vento, gloria e onore e ti ritrovi a spalare a mani nude un mare di merda, perché la guerra è quello. Lo dico sempre, la guerra è morte, merda, sangue, terrore, spavento, paura e altre brutte cose assortite. O.D. Murphy in questo suo libro ci racconta con pochissimi filtri, con grande sincerità, con straordinaria umanità la sua storia di eroe di guerra. Insomma, ripeto, il soldato più decorato d'America, indubbiamente. Un uomo che ha veramente gettato il cuore oltre l'ostacolo, un uomo che ha combattuto senza paura, apparentemente. Un uomo che ha combattuto con un coraggio disumano, un uomo che ha combattuto con un coraggio inversamente proporzionale alla propria piccola statura. Un uomo straordinario. Le parole di Murphy in questo libro, la sua vita, le sue vicende in guerra, il suo essere un eroe pluridecorato, in realtà è un uomo comune, un uomo come noi, un uomo che in un momento straordinario ha fatto qualche cosa di straordinario. e credo che per raccontare bene quello che c'è in questo libro bastino le ultime parole che sono scritte sull'ultima pagina di questo libro. Dice semplicemente Dopo un paio d'ore ne ho abbastanza dei festeggiamenti. Ritorno nella mia stanza, la guerra è finita, ma non riesco a prendere sonno. La testa continua a girarmi. Quando ero bambino mi dicevano che la guerra lascia un marchio sugli uomini. Anch'io mi porto addosso questo marchio? Questi anni di sangue e di rovina mi hanno spogliato di ogni umanità? Di ogni fede? No, non di ogni fede, perché credo nella forza di una bomba a mano, nella potenza dell'artiglieria, nella precisione di un Garand. Credo nella necessità di colpire prima di essere colpiti e credo che non ci sia niente di nobile nell'aspetto di un uomo morto. Ma credo anche in uomini come Brandon e Novak e Hope e Kerrigan, i suoi commiltoni, e come tutti gli uomini che hanno tenuto testa al nemico, accettando le batoste senza battere ciglio e le vittorie senza menare vanto. Gli uomini che sono andati all'inferno e di nuovo farebbero la strada di andata e ritorno per salvare ciò che il loro paese ritiene giusto e onesto. Il mio paese, l'America, è così. Abbiamo tanto pensato alla morte che ci siamo scordati della vita. Ed ora, di colpo, la vita è di fronte a noi. Giuro a me stesso che la guarderò in faccia, la vita, che mi saprò misurare con lei. Può darsi che io porti il marchio della guerra, ma non mi lascerò sconfiggere dalla guerra. A poco a poco tutto diventa più chiaro. Ritornerò. Troverò il tipo di ragazza che sognavo una volta, imparerò a guardare la vita senza cinismo, ad avere fede, a conoscere l'amore. Imparerò a lavorare in pace come in guerra. E alla fine, sì, alla fine, come innumerevoli altri, anch'io imparerò di nuovo a vivere. La storia di un uomo. La storia di un eroe concentrata. In poche parole. Non credo che ci sia altro da aggiungere. O di Murphy. All'inferno e ritorno. L'autobiografia del più decorato soldato d'America. Leggetela, per favore. Poi fatemi sapere, come sempre, nei commenti. Quindi, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Ciao!